Saluto questo bel pubblico venuto per la conferenza del professor Giovanni Vecchi sulla conquista del benessere. Questa è una serie di conferenze che accompagnano la mostra che si tiene qua accanto nel Palazzo delle Esposizioni dedicata all'unificazione monetaria italiana, anzi ha due unificazioni monetarie, una che ha riguardato la creazione della lira e una che ha riguardato la creazione dell'euro. Naturalmente accanto ai fenomeni monetari si sono svolti altri fenomeni economici di primaria importanza, l'allargamento del mercato, il benessere, più in generale la crescita economica che meritano la nostra attenzione e che danno anche più significato ai fenomeni strettamente monetari. Quindi questo ciclo di conferenze allarga un po' l'orizzonte al di là del fatto monetario e oggi Giovanni Vecchi ci parla appunto della conquista del benessere. Nelle prossime settimane, perché siamo circa a metà del nostro ciclo di conferenza, avremo il professor Fenualtea, poi il professor De Cecco e infine chiuderà questa serie di conferenze una conferenza di Sabino Cassese che come voi sapete è giudice costituzionale. Adesso do la parola a Giovanni Vecchi il quale parlerà circa un'ora, un pochino meno di un'ora e poi avremo una ventina di minuti per fare delle domande. A presto. Bene, grazie molte, buonasera. Io ho preso alla lettera il compito di cercare di ricostruire a grandi linee l'evoluzione del benessere in occasione di questo anniversario che celebriamo quest'anno del 150esimo dell'Unità d'Italia. La storia economica, come testimoniano tanti documenti anche recenti, dell'Italia Unita che considera l'intero 150ennio ha analizzato molte angolature dell'evoluzione del sistema economico. Semplificando, naturalmente si può immaginare, io, perlomeno la mia visione, quella di vedere una disciplina che nasce nel secondo dopoguerra e nasce in un contesto in cui prevale l'interpretazione. Si cerca di capire il problema dello sviluppo e si mettono a punto modelli che non hanno una grande attenzione, non sono neppure pensati per avere un riscontro empirico. I numeri, cioè, hanno faticato a farsi strada nella disciplina, in Italia come altrove. Ancora nel 75 riguardavo il saggio che ha scritto Valerio Castronovo nella storia d'Italia, oltre 500 pagine, non si trova un solo grafico, una sola tabella. Dopodiché arriva un periodo in cui, immaginando, insomma, di rivolgermi a un pubblico non necessariamente di specialisti, avviene una piccola rivoluzione nella disciplina della storia economica. La disciplina apre a due elementi fondamentali, la teoria economica e le basi, i metodi quantitativi, quindi la statistica e l'econometria. Iniziano, poi mi correggeranno i colleghi veri e propri storici economici che sono in sala, diciamo, a metà degli anni Sessanta, inizia a diffondersi questo nuovo modo di fare storia economica. Nuova storia economica viene chiamata cliometria, in omaggio appunto al nome di questa figura che ho riportato. Ci sono, ovviamente non mancano tutt'oggi delle zone di resistenza, ma insomma iniziano a prodursi i numeri, l'evidenza empirica, contro la quale si inizia a richiedere che i modelli si trovino un riscontro, un supporto. Io sono un economista di formazione, ho un interesse per l'economia del benessere, in particolare per la misurazione della povertà e della disuguaglianza, quindi non ho un curriculum che mi qualifichi particolarmente a rileggere la storiografia italiana. Tuttavia la mia lettura è che anche con l'arrivo dei metodi quantitativi e dei numeri abbia prevalso per lunghi decenni una grande attenzione al lato dell'offerta, vale a dire a quello della produzione. Io ho fatto un esercizio molto semplice, ho passato in rassegna molti testi, quelli posseduti dalla biblioteca della mia università, e i temi, ne guardando gli indici della storia economica che trattasse periodi sufficientemente lunghi, i temi che ricorrono sono le parole produzione, valore aggiunto e più recentemente il PIL, all'interno di un'analisi sostanzialmente macroeconomica, perché appunto il tema era crescita, sviluppo, produzione, valore aggiunto. Poca attenzione, diciamo, è stata attribuita a ciò che avviene dall'altro lato, cioè dal lato dove va la produzione. La produzione viene distribuita fra gli agenti economici e molto poco sappiamo di come si siano distribuiti i progressi che sappiamo essersi realizzati. Poca attenzione all'analisi della distribuzione del reddito e dell'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie. Sostanzialmente la lacuna, la mancanza di conoscenza, evidentemente è il motivo che ha portato il sottoscritto a interessarsi di storia economica. E quindi quello che mi propongo di fare in questa conversazione è di affrontare alcune domande. Il primo è quello fondamentale di occuparci dei livelli, cioè come sono cambiate le condizioni di vita da definirsi a breve della popolazione italiana nel corso dei 150 anni post unitari. Noi sappiamo tutti che sono migliorate. Qui la sfida, per questo l'enfasi nella premessa sulla cliometria, la sfida è quello di misurare, cioè di stabilire l'entità, la quantità. Fa una grande differenza ovviamente la misura. La misura vuol dire anche identificare la scansione temporale. I miglioramenti non sono uniformi nel tempo e ci importa sapere se si sono realizzati in certe fasi piuttosto che in altre. Quindi la seconda domanda a quale cercherò di rispondere è se la crescita che il Paese ha sperimentato sia stata una crescita, non so se la parola giusta sia equa o è qualitaria, ma quello che voglio significare è se abbia diffuso i propri benefici a tutti gli agenti economici alla popolazione. Ci sono stati segmenti della popolazione che hanno guadagnato più di altri, altri che sono stati esclusi. Queste sono domande evidentemente importanti. L'ultima domanda appunto è quello di capire la modalità con il quale i benefici si sono diffusi. Sono stati concentrati nel tempo, hanno raggiunto tutti, la campagna come la città, il sud come il nord. Queste sono le domande che io credo, senza rispondere alle quali, non riusciamo ad avere un senso dello sviluppo economico moderno del Paese compiuto, pieno, a tutto tondo. Sappiamo sostanzialmente molto, grazie allo sforzo della storiografia, su quello che è accaduto al PIL. Il PIL per abitanti, il PIL e i suoi derivati, il reddito nazionale netto e cose del genere. Il PIL è una misura, come sapete, dei beni, dei servizi prodotti dal Paese, valutati al prezzo del mercato. E in questo senso fornisce una misura complessiva della produzione del sistema che per ragioni contabili è esattamente uguale alla somma di tutti i redditi degli agenti economici, quindi per settori di salari, rendite e profitti. Quando si prende il PIL e lo si divide per il numero degli abitanti, si ottiene il PIL per abitante e quindi si ottiene una misura di reddito medio, essendo per definizione il PIL la somma di tutti i redditi. Questo per ragioni contabili. Se il PIL per abitante iniziamo a trasportarlo in una sfera di reddito medio, il legame col benessere è presto fatto. Il reddito medio è evidentemente una misura di benessere e quindi la misura del PIL nata in contesti e per scopi completamente differenti è diventata una misura utilizzata ampiamente diffusa, forse la principale, per approssimare il benessere medio di una popolazione. E questo è quello che molta parte della storiografia italiana ha fatto. L'Italia si è distinta nella ricostruzione della propria contabilità nazionale, nel contesto internazionale, è riuscita a ricostruire già nel 57, nel 58 retrospettivamente i conti nazionali fino al 1861 e sulla base poi incessante attività che seguì da allora, l'opera, l'uscita curata dall'Istat, ha continuato a raffinare la propria storia del PIL. Il problema è che fino a tempi molto recenti, per ragioni complesse che adesso qui non è il caso di affrontare, non abbiamo avuto la produzione di una serie coerente per i 150 anni. Abbiamo avuto pezzi, diverse ricostruzioni con qualche lacuna, qualche sovrapposizione, ma mancava una serie che consentisse di avere il quadro dell'intero 150ennio. Non anticipo nulla in questa sede perché non aspetta a me farlo, ma sarà presto disponibile una nuova ricostruzione della contabilità coordinata proprio dalla Banca d'Italia, a cui proprio si è messo mano, assieme all'Università di Torvergata, assieme all'Istat e ad altri interlocutori, proprio per celebrare con questa sinergia fra istituzioni l'anniversario del 150esimo. Dovendo attendere che questa ricostruzione venga diffusa da altri, al momento debito, ci accontentiamo di cogliere una prima immagine di com'è cambiato il pil per abitante lungo i 150 anni guardando la serie che probabilmente gode della maggiore reputazione internazionale, al momento sulla piazza, che sono le stime prodotte da Angus Madison. Allora in questa figura c'è sostanzialmente la risposta nella misura in cui accettate il benessere, accettate l'equazione pil per abitante uguale benessere medio, se si accetta questo, allora in questa diapositiva avete la storia complessiva del benessere medio della popolazione italiana durante i 150 anni. Lungo l'asse orizzontale avete il tempo, lungo l'asse verticale avete il pil per abitante. Il pil per abitante in questo caso è misurato in una misura un po' strana, sono dollari internazionali aggiustati o la parità di potere d'acquisto, una cosa non molto comprensibile per non dettare i lavori, ma quello che a noi interessa in questo momento è esaminare il profilo, i lineamenti essenziali, da cui si vede immediatamente un aumento vistosissimo, circa 13 volte, traducendo questi numeri in euro a potere d'acquisto attuale, sostanzialmente nel 1861 il pil medio in euro 2010, quindi per capirci con un'unità di cui capiamo il potere d'acquisto era circa pari a 2.000 euro per abitante, il medio nel 1861, e arriva ad essere circa pari a 26.000 nel 2010. Naturalmente si intravedono, io qui sto utilizzando una periodizzazione politica, si intravedono fasi diverse, c'è una prima fase, quella che si chiama dell'Italia liberale, che viene interrotta diciamo con la prima guerra mondiale, ce n'è una seconda, in cui vedete nella prima fase c'è una crescita molto blanda, che si fa fatica a vedere anche a causa della scala che schiaccia, vedremo un po' meglio con la diapositiva successiva, si vede una crescita non esaltante, anche se si intravedono movimenti prima e dopo la metà degli anni 90, qui si intravede che c'è un cambio di passo, dopodiché abbiamo un periodo di crescita fiacca, questo è il periodo fra le due guerre e poi dopo l'Italia repubblicana, dopo la seconda guerra mondiale, un'Italia che cresce a ritmi sconosciuti in precedenza. Questo si può vedere meglio guardando i tassi di crescita che sono impliciti, sono corrispondenti alla figura precedente, qui si vede che nel corso dei 150 anni il tasso medio annuo del PIL per abitante è stato inferiore al 2%, pari all'1,7%, cosa che implica, grosso modo per avere un'idea di quanto sia grande questo numero, una crescita veloce oppure no, un modo per rispondere è chiedersi quanti anni occorrono affinché il PIL raddoppi se ogni anno cresce al tasso dell'1,7%, la risposta è circa 41 anni. Quindi questo è il valore medio complessivo su tutti i 150 anni, i tre sottoperiodi che vi mostravo prima sono in questo caso analizzati guardando ai tassi medi e vedete un 1,8% per l'Italia liberale prima della prima guerra mondiale, quindi quasi 40 anni perché il PIL si raddoppi, nell'Italia fascista il tasso medio diminuisce, diminuisce, si dimezza, siamo allo 0,9% e poi abbiamo Italia repubblicana 3,1% che corrisponde visivamente a quella crescita molto rapida. Ora anche all'interno dell'Italia repubblicana le differenze sono grandi, nel senso che nella diapositiva successiva vi faccio vedere una storia probabilmente nota ma che adesso lo scopo un pochino di lasciarvi con un po' di numeri in testa, avere un po' il senso della scansione temporale, di quando si accelera, di quando sono i momenti di accelerazione, quelli di stasi e quelli di inversione di tendenza. Allora vedete che la prima riga riporta il periodo che viene chiamato l'età dell'oro, periodo di crescita straordinaria in Italia come in altri paesi europei in cui cresciamo al 5,1% per oltre 20 anni, 20-25 anni. A questo ritmo di crescita il PIL per abitante raddoppia ogni 14 anni, quindi i genitori non fanno in tempo a mettere al mondo i figli e questi avranno sicuramente un reddito più che doppio, in media, tutto qui, in media dei propri genitori. Dopo il 74 fino al 92 il tasso di crescita si dimezza, 2,4%, dopo la grave crisi del 92 per il decennio successivo siamo all'1,5% e questi sono gli anni che ci stanno preoccupando perché il paese non cresce, in questo caso abbiamo che il numero di anni qui avrei dovuto scrivere necessario affinché il PIL si dimezzi. In questo caso insomma tempo cent'anni avremo il PIL dimezzato, grosso modo questa è la stima che emerge. Ora la messaggio complessivo da questi, che secondo me è bene ricordare, da questi numeri è molto semplice. Il progresso di cui siamo consapevoli che abbiamo quantificato un PIL che aumenta di circa 13 volte non è stato un processo lineare, è stato un processo largamente concentrato nella seconda metà del novecento. Questi sono i due o tre fatti stilizzati con i quali possiamo riassumere i numeri che abbiamo i grafici visti finora e abbiamo che per circa cent'anni dal 61 al 1951 gli italiani riuscirono grosso modo a raddoppiare il proprio reddito. È solo dal secondo dopoguerra che riescono rispetto ad oggi a moltiplicarlo per sette volte, quindi è un incremento storicamente molto localizzato nel cinquantennio che abbiamo alle spalle. E abbiamo scritto in un saggio con Gianni Tognolo un balzo lungo compiuto in un tempo molto breve. Se questo lo collochiamo, questo giusto per chi non ha mai visto un grafico del genere, ci sono persone che con reputazione ovviamente scientifica hanno stimato il PIL per due millenni. Quindi in questo grafico vi faccio vedere il PIL italiano stimato da Angus Maddis, dall'anno zero, nascita di Cristo, nell'asse orizzontale e vedete nell'asse verticale il solito PIL per abitante. In questa prospettiva, una finestra più ampia di quella precedente, vedete la stazionarietà che caratterizza il sistema economico italiano per quasi due millenni e questo balzo straordinario che non ha precedenti, che si localizza, si concentra nella parte finale del periodo. Quindi è un risultato raggiunto solo in tempi molto recenti. Sarebbe molto interessante conoscere a questo punto il PIL per vedere se le regioni, per esempio, del nostro Paese abbiano, mostrino tratti simili, se abbiano condiviso questo valore medio nazionale. Il problema nell'affrontare l'articolazione regionale del PIL è che l'Istat pubblica i dati sul PIL regionale soltanto a partire dal 1970, 30 anni di stime ufficiali del PIL. Rappresentano naturalmente una storia molto importante e interessante, ma che in questa sede in cui ci occupiamo dei 150 anni non ci aiuta. Sono in corso ricostruzioni che consentono di cogliere l'evoluzione del PIL a livello regionale per alcuni anni, ma ho deciso di non farvele vedere, di fermarmi qui e svelare e girare subito le carte dicendovi che la ragione principale per la quale non guardiamo ulteriormente il PIL è che il PIL non è un indicatore di benessere. Sembra tale, ho spiegato fino a questo momento che si può interpretare come tale nel senso che è stato fatto, viene correntemente interpretato come tale, ma tale non lo è. Non lo è da un punto di vista concettuale, il PIL contiene oggetti che non dovrebbe contenere e ne esclude altri che dovrebbe contenere e non sempre fa un buon servizio nell'approssimare l'evoluzione del benessere. Normalmente lo approssima, diciamo questo è un fatto empirico molto ben consolidato, ma possiamo fare di meglio. In particolare ci sono due difetti, due limiti, due problemi invalicabili che mi hanno suggerito ovviamente di prendere una strada completamente diversa e abbandonare la strada del PIL. Il primo naturalmente è quello della multidimensionalità del benessere. Il benessere non si misura soltanto in termini monetari, il PIL è una misura monetaria, è un reddito medio sostanzialmente, sporco ma è un reddito medio e quindi come tale è capace di cogliere solo una dimensione del benessere, quella monetaria. La seconda è un problema di aggregazione. Il PIL è un aggregato, il PIL aggrega. Che cosa? Aggrega il valore delle merci e dei servizi per darci un senso di quello che è il reddito medio. Ora, per un analista del benessere, l'aggregazione è esattamente la negazione di ciò che cerca. Noi cerchiamo qualcosa che vada oltre il valore medio, valore totale o il valore medio. Vogliamo sapere esattamente la, non la media aritmetica ma la varianza in termini statistici. Ci piace sapere e capire quanto sono diverse le condizioni lungo l'intera scala della popolazione. Per questo motivo la domanda da affrontare, lasciando, il PIL non potrà mai sopperire ovviamente a questa domanda, non ci può dire come si è distribuito se stesso. Evidentemente servono dati individuali, dati che sono l'opposto di quello che fa il PIL. Dati disaggregati, dicono gli economisti. E allora, per riuscire, la domanda che ci poniamo è come facciamo a capire come si sono distribuiti questi guadagni medi, così a lusinghieri, di cui carte alla mano abbiamo sperimentato nei 150 anni di storia. Allora, sono pochi, forse nessuno, i paesi al mondo per i quali è stata ricostruita la storia distributiva, cioè è stata ricostruita la storia secolare della distribuzione dei redditi. Ci sono in molti che, non neanche molti forse, ci sono alcuni che ci hanno provato, ma hanno, come denominatore comune, hanno utilizzato indicatori di benessere che definirei parziali, parzialmente soddisfacenti, hanno utilizzato dati di seconda scelta, per così dire, dati che soffrono di limiti teorici, dati sui salari, sulle rendite, che coprono, cioè solo determinati settori della popolazione. La conseguenza è quella che vi ho detto, sono molto pochi i paesi per i quali abbiamo un senso di come sia stata diffusa, se sia stata una crescita equa, che abbia diffuso i benefici alla popolazione. Per l'Italia siamo riusciti, e questa è una tesi che sto cercando di vendervi, siamo riusciti a fare meglio degli altri, tutti gli altri. Adesso vediamo se riesco a convincervi, esplorando una strada che altri non hanno battuta, a quella dei bilanci di famiglia. I bilanci di famiglia, apro una brevissima parentesi autobiografica, non durerà più di 30 secondi, però ve lo spiegare un secondo. È dai tempi della mia tesi di laurea, Modena 1993, che esploro l'uso di questi bilanci di famiglia. È quello l'anno in cui, incoraggiato da Nicola Rossi, che insegnava econometria all'Università di Modena, e Gianni Tognolo, che insegnava storia economica, se ricordo bene, a Caffoscari, iniziai a raccogliere qualche migliaio di bilancio di famiglia. Che cosa sono i bilanci di famiglia? Sono delle vere e proprie contabilità domestiche, dei prospetti ragioneristici, in cui sono segnate le entrate e le spese. E dove si trovano questi bilanci di famiglia? Perché voi sapete che le indagini campionarie dei bilanci di famiglia sono un prodotto moderno, nascono figlie dell'esplorazione nei primi anni Cinquanta. Le due grandi istituzioni del nostro paese, la Banca d'Italia e l'Istat, esplorano nei primi anni Sessanta con indagini pilota e entrano a regime solo nella seconda metà degli anni Sessanta, con le grandi indagini di cui disponiamo tutt'oggi, campionarie in cui si va nelle famiglie e si domanda quanto spendi di questo e di quel lato, si registra nei diari e quindi si ha ciò che si desidera, cioè si conosce la distribuzione dei redditi. Prima del 1960 non c'era nulla, non c'era neanche l'idea del campione statistico, l'idea del campionamento, di fare le indagini moderne, è un'idea che nasce nella seconda metà degli anni Venti probabilmente e impiega tempo per affermarsi. Quindi il problema di recuperare i bilanci di famiglia è un problema che non è banale. Dove si trovano questi bilanci di famiglia? La risposta è sostanzialmente un po' dappertutto, basta cercarli. La fotografia che vi mostro qui di un ingegnere minerario, Leple, il quale, incoraggiato da Napoleone III, diffuse la raccolta delle monografie di famiglia, che consistevano in interi rapporti che venivano compilati dopo aver vissuto insieme alla famiglia con un'appendice corposa minuziosissima che raccoglieva tutte le spese e le entrate familiari. Leple raccolse circa 100 di queste famiglie girando a piedi 6-7 mila chilometri nello spazio di 12-14 mesi l'Europa, tornò con una straordinaria quadro di sintesi comparativa fra le famiglie un po' sparse per tutta Europa, suscitò entusiasmi in Napoleone III che fondò, detto una marea di quattrini a questo signore, il quale diffuse questa pratica di raccogliere i bilanci di famiglia in un'elite di statistici che erano molto attive, era su scala europea, si vedeva, in Italia prese piede anche questa, diciamo, consuetudine di raccogliere, investigare in maniera quantitativa le condizioni di vita della famiglia raccogliendone esattamente quello che ci servono, le spese e i redditi, con una dovizia di particolare che, diciamo, fa impallidire molte delle indagini moderne. Si iniziano a diffondere con la nascita del Regno le grandi inchieste ufficiali, quindi si trovano volumi intere in cui nelle appendici sono riportati a mo' di esempio, non con lo scopo di essere un campione, ma informazioni quantitative molto accurate, scelte di famiglie, scelte sparse su tutto il territorio nazionale che indicano le spese e le entrate delle famiglie. Dopodiché l'elenco è lunghissimo, più si cerca, più se ne trova. I medici dell'epoca studiavano la nutrizione di un gruppo di famiglie e legavano nell'appendice dei volumi i bilanci delle famiglie studiate per tutt'altri fini. Gli esempi sono tantissimi, andando per archivi di impresa, di Stato, archivi comunali, addirittura nei carteggi dei diritti fallimentari, siamo pieni di bilanci di famiglie. Che cosa vuol dire pieni? Vuol dire che abbiamo, nel 1994, pubblico un primo articolo in cui si documenta la ricchezza di queste fonti e si suggerisce che forse è una strada percorribile per superare l'impasso sostanzialmente che tiene in scacco tutti gli studiosi che desiderano avere la distribuzione dei redditi davanti a loro. Nel 1999 aggiungo un secondo tassello e in occasione del dottorato di ricerca, non c'è qui Stefano Penoltea, ma difeso davanti al professor Penoltea, aggiungo un altro tassello portando qualche altro migliaia di bilanci di famiglia. In breve, si, diciamo, viene evidente, risulta evidente che questi bilanci sono tanti, è necessario naturalmente riclassificarli uno ad uno perché gli autori non erano coordinati fra loro e quindi raccoglievano ciascuno seguendo criteri propri. Tuttavia, con una paziente rielaborazione non è cosa concettualmente affatto difficile quella di riallocare le voci in maniera tale da far entrare all'interno di uno stesso schema contabile. Così facendo, siamo arrivati ad avere circa 20.000 bilanci di famiglia che coprono il periodo difficile, quello per il quale non ci sono le inchieste moderne, il periodo pre-anni 60 del 1900. Sulla base di questa numerosità campionaria si iniziano a poter fare dei ragionamenti affidabili. E che cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo per ciascun decennio, qui vedete nel primo grafichetto qua in alto, l'anno di nascita del Regno d'Italia, 1861, in questo istogramma sono rappresentati tutti i bilanci di famiglia raccolti per quell'anno. A distanza di dieci anni lo stesso esercizio è stato fatto per 1871 e così via, a intervalle di dieci anni siamo riusciti a ricostruire attraverso questo strumento che sono i bilanci di famiglia come la distribuzione dei bilanci cambia nel tempo con una serie di istantanee distanziate fra loro circa da una decina d'anni. Arrivati nel 61 il gioco diventa più facile perché arrivano i grandi, arrivano le inchieste Istat e Banca d'Italia che ci danno i dati di altissima qualità, sempre più crescente nel tempo. A questo punto naturalmente i dati soffrono di molti difetti, come vedete ci sono, chi ha un occhio clinico vede un attimo che ci sono delle cose bruttissime, delle punte, degli avvallamenti che sono ovviamente dei difetti nelle base dati, ma questo si fa presto perché si possono sostanzialmente, si hanno stime tecniche econometriche che consentono di proteggere gli indicatori di disuguaglianza che si cerca e vogliamo estrarre da queste distribuzioni e si sostituisce questa distribuzione empirica così rumorosa con una curva liscia che stima naturalmente i dati sottostanti. Facendo questo si ottiene per ogni dieci anni esattamente quello che si desidera, cioè la distribuzione dei redditi, a quel punto siamo in grado di calcolare per ciascuna di queste curve la disuguaglianza e rispondere alla prima, alla seconda delle domande, cioè se la crescita sia stata equa, la crescita che abbiamo visto nel reddito per abitante. Questa che pongo davanti a voi è la ricostruzione dell'intera storia distributiva dei quasi quasi intera dei 150 anni post-unitari. Allora i pallini che vedete sono l'asse, diciamo il grafico misura sull'asse orizzontale il tempo e sull'asse verticale l'indice di Gini. L'indice di Gini è una misura di disuguaglianza, quanto maggiore l'indice tanto maggiore la disuguaglianza, tanto più è ineguale la distribuzione dei redditi. E varia tra 0 e 100 questo indice. Quindi un valore basso indica uguaglianza, un valore elevato indica disuguaglianza. Quello che vediamo da questa ricostruzione si vedono questi pallini che sono esattamente le distribuzioni a intervalli decennali, grosso modo, che mostrano il profilo di lungo periodo della disuguaglianza, in questo caso delle spese familiari. Questi pallini sono calcolati sulla base del dataset che vi ho mostrato prima, di cui vi ho raccontato prima sui bilanci di famiglia. Dopo il 1900, qui abbiamo un piccolo buco, c'è una lista pubblica dati in formato tabulare, cioè non distribuisce i microdati ma fa solo delle tabelle, si possono stimare lo stesso degli indici di disuguaglianza e poi si ha l'ultimo tratto più recente in cui invece possiamo stimare con decine di migliaia di microdati sottostanti con grande precisione. Viene fuori una cosa che dovrebbe emozionare alcuni degli addetti ai lavori, perché noi abbiamo per molti anni atteso di sapere se l'Italia era riuscita in questa strepitosa ascesa del pil per abitante a far partecipi tutti i segmenti della popolazione. La risposta qui è netta, c'è un trend secolare decrescente. È vero, ci mancano i primi 20 anni, 1861, 1871 non siamo stati in grado ancora di fare le stime, ma c'è chiaramente uno sviluppo economico moderno che si accompagna a una maggiore equità distributiva. Questa è una caratteristica che pone l'Italia in un caso di estremo interesse, perché la qualifica non solo fra, è stato scritto, un caso di successo dei paesi che dalla periferia riescono a raggiungere il centro in termini di pil per abitante, ma la pone anche come un modello di sviluppo virtuoso, perché ha saputo coniugare la crescita a una maggiore equità, non ha dovuto accettare una maggior disuguaglianza, come alcuni sostengono, per poter crescere. Qui non c'è tratto, non c'è traccia di quella che gli economisti chiamano la curva di Kuznets. Non la possiamo escludere, ovviamente, ma non si vede, non c'è. Ritengo che sia improbabile anche che vi sia. Vi segnalo questo tratto finale che ha in questo caso una importanza almeno doppia, diciamo così, perché in questo caso vi segnala che negli ultimi due decenni la disuguaglianza è aumentata. Ha dei precedenti? Sì, ce li ha. Ma quando la disuguaglianza si coniuga a un'assenza di crescita, se vi ricordate qualche diapositiva fa vi ho fatto vedere che il PIL non sta crescendo, allora assenza di crescita, aumento della disuguaglianza non può non suggerire un aumento della povertà, che è molto improbabile. In punto di teoria tutto è possibile, ma dal punto di vista pratico questo è quello che ci dobbiamo aspettare. Il suggerimento sempre rivolto in questo caso a chi ha seguito un po' queste vicende è anche quella forse di abbandonare questa ricerca delle leggi, delle grandi leggi empiriche per abbracciare invece il suggerimento da un punto di vista metodologico di concentrarci di più sui punti di svolta, capire quando è che avviene l'inversione di tendenza anziché alimentare queste letterature in cui gli economisti hanno un debole, non resistono a delle grandi regolarità empiriche quindi legge di Kuznets, legge di Engels, qui insomma l'idea, quello che l'esperienza storica sta, l'italiana suggerisce che vi siano andamenti non monotoni, conviene diciamo impiegarle energie nel capire perché a un certo punto le cose cambiano e poi ricambiano di nuovo e concentrarsi sui punti di svolta, questo è un piccolo corollario. Però dal punto di vista interpretativo il messaggio è forte, il paese ha saputo coniugare la crescita all'equità, questo è un risultato forte. Ora, il passo successivo è quello di capire come sono andate le cose per la povertà. Per la povertà dico solo nello spazio di una diapositiva, insomma per chi non è esperto di queste cose, che occorre tutto sommato ben poco per misurarla. Una volta che sostanzialmente si hanno, servono tre oggetti, il primo è esattamente quello che vi ho appena mostrato, cioè occorre avere la distribuzione dei redditi o delle spese familiari. In questa diapositiva uso il termine condizioni di vita per dire un indicatore di benessere, quale che esso sia. Questo ce lo abbiamo, dopodiché serve una soglia, un livello di reddito che definiamo linea di povertà e diciamo chi ha meno di questo livello viene classificato come povero. Una volta che abbiamo la distribuzione di tutti i redditi, un reddito critico che denota, demarca la soglia della povertà, a questo punto dobbiamo metterci d'accordo su come misurare la povertà, possiamo contare i poveri, possiamo contare quanto poveri sono i poveri, possiamo fare tutte e due le cose, ma insomma ci vuole poco a quel punto calcolare la linea di povertà. Ora, premesso che ogni scelta sottostante questi tre ingredienti è una scelta che implica giudizi di valore, la teoria economica aiuta ma non risolve mai le scelte critiche che bisogna prendere, l'elemento cruciale è il secondo. Per poter ricostruire il profilo di 150 anni della povertà bisogna che ci si metta d'accordo su come si misura questa linea della povertà. Allora il mondo accademico, ma non solo quello accademico, è nettamente diviso in due fazioni, ci sono quelli a favore della povertà relativa e quelli a favore della povertà assoluta. La linea della povertà relativa è definita in una maniera semplicissima, dipende dal valore medio-mediano della distribuzione. Si prende il valore medio-mediano e si dice se un individuo ha per esempio meno della metà del valore medio classificato come povero, la cosa è presto fatta. È relativa perché questo significa che evidentemente la condizione di povertà dipende da quello che hanno gli altri, dipende dalla media, uno è povero relativamente agli altri, questo caratterizza questo approccio. L'Italia ha una vocazione per aver adottato questo approccio e siccome occorrono pochi minuti per calcolarlo, questo è quello che ho ottenuto sulla base dei dati Istat e ve lo mostro, ma lo possiamo fare solo relativamente al 1985 fino al 2010. Quello che si vede è una cosa che si chiama povertà relativa, ma che, questa è un'altra tesi che sostengo, in realtà ci dice molto poco su quello che io ritengo essere una migliore concettualizzazione di povertà che è quella assoluta, perché la povertà relativa è una misura in realtà di disuguaglianza. È possibilissimo che tutte le persone nella popolazione migliorino tutte, senza eccezione, le proprie condizioni di vita, ma si trovi che la povertà aumenta drammaticamente. Il motivo è che le condizioni di vita possono aumentare in maniera non uniforme nella popolazione e quindi si può avere questo strano fenomeno in cui tutti stanno meglio, ma la povertà aumenta. Questo che vediamo rappresentato qui è un oggetto, se lo riconoscete, molto simile al profilo che abbiamo osservato nella diapositiva in cui guardavamo la disuguaglianza. Quello che osserviamo è che a partire dai primi anni 90 c'è questo trend ascendente, qui si chiama povertà relativa, ma la mia interpretazione è di disuguaglianza. Su questo sarò felicissimo di rispondere domande chiaramente, perché è una discussione che appassiona sempre, io appartengo a una fazione piuttosto che all'altra, quindi sarò molto contento di dibattere questo. Su quello che riguarda invece, per quello che riguarda la conclusione qual è? La conclusione è che la povertà relativa, in questo caso questo grafico, è di scarsissimo interesse per chi si occupi di povertà, essendo, trattandosi di una misura di disuguaglianza in cui per motivi storici molto, di cui sarò ben contento di discutere e illustrarvi, ha preso il nome di povertà relativa. Se uno volesse invece appassionarsi e calcolare la povertà assoluta, avrebbe delle difficoltà più serie, perché il paese sostanzialmente non se ne è mai occupato, per motivi molto diversi, ma la povertà assoluta non appartiene alla tradizione del nostro paese. Sostanzialmente abbiamo degli episodi di misurazione, sono riassunti in una recentissima pubblicazione dell'Istat in cui sostanzialmente vi si dice il dato degli ultimi pochi anni. Il dato degli ultimi pochi anni vi dice che in Italia ci sono circa il 4% di poveri intesi in senso assoluto, dove in questo caso la differenza della povertà assoluta e quella relativa è quello che consiste nel fatto che la linea della povertà assoluta è tracciata indipendentemente dagli altri. Si identifica un paniere di beni che si definisce necessario, si calcola il valore di questo bene, indipendentemente da tutti gli altri, se una persona dispone di un reddito, di una spesa maggiore di questo valore di paniere necessario, allora se è maggiore è classificato come non povero, se non si può permettere classificato come povero. Questo esercizio non fa parte delle tradizioni del nostro paese e non sappiamo sostanzialmente come non abbiamo la storia. La mia tesi, pronto a documentarla, è che sostanzialmente per motivi diversi il paese non abbia mai richiesto questo calcolo. Nell'Italia liberale la questione della povertà era sul tavolo del prefetto, una questione di ordine pubblica apparteneva anche ideologicamente ad altre sfere, nell'Italia fascista la propaganda era impensabile ovviamente occuparsi, si parlava di poveri ma insomma erano degli elenchi fatti per monitorare, non era incompatibile con la propaganda del regime, dopodiché c'è stata l'Italia del miracolo economico in cui prevaleva un periodo di crescita così forte, non c'era domanda di calcolo di povertà, la convinzione era che la crescita prima o poi beneficiasse tutti evidentemente. E anche quando è stata messa in piedi la commissione di indagine sulla povertà, per ragioni che qui non interessano, è stata scelta la strada della povertà relativa. Quindi di fatto non sappiamo quale parte, come sia cambiata una parte della popolazione che non può permettersi, che siano poveri in senso assoluto. Ad oggi ignoriamo ancora questa parte della nostra storia. Così come ignoriamo la vulnerabilità, la povertà, che è ciò di cui forse dovremmo occuparci oggi. Cioè oggi saremo in grado di stimare non solo chi è povero, che è un po' come contare in ritardo quanti sono caduti in povertà, avremo gli strumenti per misurare la probabilità di essere poveri domani, cioè la vulnerabilità, la povertà, ma di nuovo mi sembra che ci sia sia dal lato produzione di queste statistiche, sia dal lato della domanda, un'attività molto bassa. Allora, riassumendo, abbiamo un bilancio positivo, io credo, dei 150 anni, un aumento dei redditi di tutto rilievo, una diminuzione della disuguaglianza e una presunta, ovviamente, diminuzione della povertà, sebbene su questo fronte ci manchino delle cifre certe. Prima di passare a farvi vedere altre cifre, aggiungo che naturalmente vi sono delle dimensioni qualitative, di cui non riesco a occuparne il tempo che ho, di cui dovremmo accennare, la struttura dei consumi cambia enormemente, non è solo che aumenti il reddito, naturalmente la composizione della spesa, circa due terzi della spesa, almeno due terzi della spesa nel 1800 andava solo per l'alimentazione dei tabacchi, questa percentuale oggi è inferiore al 20%, quindi ci sono tutta una serie di cambiamenti qualitativi di cui, per ragioni di tempo non riesco a raccontarvi, così come ci sono delle grandi innovazioni che hanno un impatto molto grande sul benessere degli italiani, qui vi faccio vedere la diffusione degli elettrodomestici, ne ho considerati due qui, un lavoro fatto con Gianni Toniolo, facciamo vedere per il frigorifero e la lavatrice, circa il 13% della popolazione aveva un frigorifero nel 1958, cinque anni dopo nel 63 siamo al 40%, nel 1970 siamo a tre quarti della popolazione e la soglia del 95% viene raggiunta nel 1980, sono dinamiche rapidissime che danno forse un'idea di quanto si trasformi e di quanto veloce sia il processo di diffusione, più lento, notevolmente più lento quello della lavatrice in cui come vedete la soglia al 95% è raggiunta soltanto con il secondo millennio. Cose analoghe ovviamente intervengono con l'automobile ed altri beni e altri elettrodomestici. Vi faccio solo vedere un aspetto perché quando si parla di consumi abbiamo una letteratura che ha sempre di fatto, diciamo dal punto di vista teorico evidentemente è sempre rimasta consapevole del fatto che i consumi dipendono, vanno valutati quando vogliamo confrontare diverse regioni nel territorio, vanno confrontati tenendo conto del diverso costo della vita. Questo viene detto ma non viene praticato perché non disponiamo di un indice, non abbiamo mai disposto, non è stato mai prodotto un indice che ci dica qual è la differenza media del costo della vita fra una regione del nord e una regione del sud. Soltanto recentemente, diciamo, l'attenzione ha preso, si è tradotta in qualcosa di concreto e con Nicola Mendola, un collega di Torvergata, siamo saliti sulle spalle di Luigi Cannali che qui in sale saluto di un collega Iuzzolino e abbiamo sulla base di stime che questi colleghi hanno fatto della Banca d'Italia per un anno specifico abbiamo cercato di ricostruire l'evoluzione del costo della vita nell'Italia repubblicana. Il risultato riportato in questa diapositiva vi mostra che se 100 è il costo della vita medio in Italia, la linea nera sopra vi dice che il costo della vita al centro nord nelle regioni centosettentrionali è superiore, 105 all'inizio del secondo dopoguerra e poi segue questo andamento, mentre il costo della vita nelle regioni meridionali ha questo altro andamento. Ora, questo è un dato che vi faccio vedere perché rileva nei confronti evidentemente di benessere. Se confrontiamo due persone che hanno lo stesso reddito dobbiamo tenere conto del fatto che fanno fronte a costi della vita diversi. Ma vi segnala anche il problema con il quale poi ci ritroviamo fra poco della mancata naturalmente integrazione del territorio. Ciò che colpisce di questo grafico è la persistenza evidentemente di questo divario. Perché non si chiude questa forbice? Questi sono i differenziali del costo della vita. La forbice non solo non mostra segni di chiusura ma si intravedono perlomeno negli ultimi trent'anni semmai segni di divaricazione nel costo della vita. Se sono un po' cose che richiedono una riflessione. Segnalano senz'altro una mancata integrazione. Ora, penso che il tempo mi costringa ad accelerare un pochino e passare a raccontarvi qualcosa sulle metriche non monetarie del benessere. Il benessere non è solo reddito o spese come abbiamo visto ma è un oggetto evidentemente multidimensionale di cui ha tante dimensioni di cui vogliamo occuparci. Il primo indicatore che sono in grado di proporvi sui 150 anni è la speranza di vita alla nascita, cioè la durata media della vita. L'ISTAT stima che i bambini nati che nascono quest'anno potranno attendersi di vivere 82 anni in media, con un vantaggio di 5 anni se sono bimbe, se sono femmine. Quindi una speranza di vita attualmente oggi in Italia è di 85, 84,8 anni per le femmine contro 79,3 per i maschi. Questo è un traguardo che vedete in questa diapositiva qua su, vedete un differenziale di genere qua su. All'inizio del regno stavamo a circa 30 anni, la speranza di vita per un bambino nato nel 1861. Oggi non esiste paese al mondo che abbia una speranza di vita di 30 anni. I paesi dell'Africa subsahariana sono intorno ai 40 anni, quindi neanche i paesi più poveri di oggi hanno una speranza di vita, quale quella italiana alla nascita del regno, una speranza di vita che era molto simile a quello che molti studiosi hanno calcolato per gli antichi romani, 25, 26 anni, 27 c'è chi dice. Insomma, quindi diciamo, abbiamo fatto da questo punto di vista in 150 anni un balzo che non si era compiuto in millenni. L'antica Roma stava a 25, 26 anni, nel 1861 28, 30 anni in Italia, dopodiché si cresce e sostanzialmente ogni tre anni, questa è la storia diciamo di questa curva che vi mostro, dimentichiamo per un attimo la grande influenza, la pandemia dell'influenza del 1819, la seconda guerra mondiale, se togliamo al netto degli anni delle guerre di questi episodi terribili, la storia che ci portiamo a casa è questa, cioè ogni tre anni le persone nuovi nati si potevano attendere un anno in più aggiuntivo di vita. Questo dato in media ha caratterizzato tutti e cento i 150 anni passati. Ogni tre anni chi nasce può aspettarsi di avere un anno in più di vita. Da questo punto di vista è un dato di un'eloquenza straordinaria. Se lo confrontiamo con i vicini di casa, quindi se ci chiediamo ma è un vantaggio solo italiano oppure è stato di noi più bravi oppure cosa abbiamo fatto rispetto agli altri, in questo grafico, un po' confuso forse, l'Italia è in rosso, al solito nell'asse orizzontale c'è il tempo, nell'asse verticale c'è la speranza di vita, la nascita. L'Italia, come vedete, parte da condizioni, vengono definite, c'è questa parola che ricorre di periferia, è vero, lo siamo anche nella metrica della speranza di vita, si moriva in età in cui altri paesi, la Francia, la Svezia, siamo molto molto al di sotto. Dopodiché vedete che questo è un esempio proprio di quello che vi dicevo, in questo caso nei primi 50 anni c'è quello che si chiama una rincorsa, un catch up, l'Italia riesce a recuperare nonostante il PIL non mostre una dinamica entusiasmante, in questo senso il PIL non offre una buona rappresentazione dei guadagni, la offre parziale evidentemente. In questo caso qui riusciamo a raggiungere la Francia, che rimane più ricca di noi di diversi punti percentuali durante questo periodo. La rincorsa si interrompe nel periodo fra le due guerre, lasciamo stare i picchi, ma sostanzialmente fra le due guerre l'Italia continua a migliorare ma non recupera ulteriormente sugli altri paesi, quindi segue la marea, diciamo così. Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia compra il vero proprio miracolo, non quello economico, che miracolo non è, lo diremo, ma compie uno strepitoso processo di sorpasso in questo caso che colloca l'Italia di oggi seconda al Giappone e a qualche altro piccolo paese, tutto sommato marginale. Quindi da questo punto di vista i 150 anni sono, questa è appunto la conquista più che il benessere della longevità, evidentemente. Ora, in questo periodo cambia il quadro epidemiologico, non sappiamo, questo ve lo dico per persone non addetti ai lavori, ci piacerebbe sapere se questo aumento della speranza di vita di nuovo sia stato sperimentato in tutte le regioni, ma in questo caso l'Istat pubblica le serie della speranza di vita a partire dal 1980, quindi non ve le mostro neppure perché stiamo parlando solo dell'ultimo pezzettino e sarebbe poco interessante. Quindi questa è una curiosità con la quale dobbiamo convivere. Cambia naturalmente la composizione del quadro nosologico, cioè delle malattie che causano la mortalità. Inizialmente scompaiono rapidamente le malattie infettive, quelle che si debellano per prime sono le infettive e questo rileva moltissimo nel chiederci chi è che beneficia dei progressi, perché le malattie infettive colpiscono molto di più le fasce più giovani d'età. Le malattie che poi vengono con lo sviluppo della teoria dei germi, insomma questa è una storia lunga e complicata, anche le malattie gastroenteriche sono quelle che si riducono più rapidamente e alla fine naturalmente c'è qualcosa altro che aumenta, sono le malattie croniche, sono le cardiovascolari, le neoplasie. Questo è esattamente ciò che accade in un'economia moderna che è invecchiata, è quello che deve accadere quando l'economia invecchia. Quindi riusciamo a spiegare l'aumento che abbiamo visto della speranza di vita media capendo che a beneficiare maggior misura inizialmente sono state le fasce di età più giovani, i quali sono, diciamo, questo lo vediamo in questa diapositiva, la mortalità infantile crolla abbastanza rapidamente. Vedete che in questo caso il recupero sulla Francia è ancora più veloce, vedete partiamo da livelli molto elevati, l'Italia è sempre la curva in rosso, più di noi c'è questa Germania un po' strana, ma insomma siamo il paese certamente più arretrato fra i nostri vicini di casa e come vedete andiamo bene. Poi nel secondo dopoguerra, questo è un altro caso in cui il PIL non offre un buon servizio. Il PIL qui mostra una crescita favolosa, una crescita miracolosa, qui no, la mortalità infantile sta decrescendo ma stiamo in linea con la Spagna, siamo peggio di tutti gli altri paesi. Quindi in questo caso abbiamo di nuovo la necessità di qualificare, questo risponde implicitamente nei tempi che ho dato, naturalmente non riesco a articolare tutto, ma insomma qui è evidente vincitori e vincitori, qui i bambini hanno una loro storia, quella fascia della popolazione hanno una loro storia che è identificata da questo grafico. Questo ve lo salto perché non ho tempo, vi faccio vedere un altro indicatore non monetario che sono le stature. Allora la statura degli individui naturalmente è un indicatore che necessita di una parola di introduzione che tiene conto, non esiste un genere della statura evidentemente, gli storici economici usano la statura come proxy, come misura approssimata del benessere in assenza di altro, quando non c'è altro. Perché funziona? L'immagine più semplice per spiegarvi perché funziona è questa. Questo rappresenta, questa figura è tratta da, Tanner era un medico inglese, è un medico inglese, molto famoso in questo campo, il quale si, diciamo, incorse in questo esperimento naturale tanto raro quanto prezioso. Lui ritrovò due gemelli che erano stati separati alla nascita, due gemelli homo zigoti, quindi con lo stesso identico corredo genetico. Questi due gemelli erano stati separati al momento della nascita, uno era andato a vivere con il padre, trattato bene, una famiglia cresciuta con tutti gli agi, l'altro mandato da una zia che viene in inglese descritta neurotic, quindi una psicotica violentissima che lo segregava nel sottoscala, gli negava anche acqua, lo sottoponeva deprivazioni gravi. Con una trasmissione televisiva della BBC, insomma, vengono invitati i gemelli a farsi vivi e riesce a ritrovare i due gemelli a distanza di 30-35 anni. Li misura e naturalmente trova un divario di 8,3 centimetri. Questo divario non può essere attribuito alla genetica, perché per definizione sono due gemelli omozigoti, con lo stesso identico corredo genetico. A cosa è attribuito? Sì, è attribuito all'ambiente. I genetisti, diciamo gli economisti, non hanno fatto altro che prendere a prestito quelle poche nozioni che hanno capito dalla genetica e hanno ingegnosamente utilizzato questo strumento perché l'ambiente può rappresentare un elemento stativo a che il potenziale della crescita di un individuo venga raggiunto. Se l'ambiente lo consente, l'individuo raggiunge l'altezza per il quale è programmato, ma se l'ambiente non lo consente, il corpo non consente il raggiungimento del potenziale. Si possono studiare quindi le stature di una stessa popolazione, di un gruppo e una persona e confrontandole nel tempo si ha un senso dell'aumento del benessere, soprattutto laddove non è disponibile altro, non è disponibile il PIL, non è disponibile il reddito medio o altre cose. Nel caso degli italiani disponiamo dell'altezza di tutti i coscritti perché venivano i ragazzotti di vent'anni, venivano misurate la visita di leva e questa curva traccia l'evoluzione della statura media degli italiani. Da 163 centimetri alla nascita, questa è la statura a vent'anni, da 163 centimetri gli italiani raggiungono nel 1980, anno cui poi viene abolita, questa è l'ultima classe della leva obbligatoria raggiungono la statura di 174,5 centimetri. Il valore medio non ci serve tantissimo, l'utilità di questi dati è questa. Possiamo calcolarlo con una precisione non consentita da nessun altro indicatore. In questa figura vi faccio vedere a livello di provincia la statura degli italiani. Colore rosso vuol dire piccoletti, colore verde vuol dire alta statura. Questa è l'immagine di coloro nati nel 1855 misurati vent'anni dopo. Quindi la convenzione è che rappresenti le condizioni di vita medie prevalenti nel 1855, anno in cui il corpo del bambino è particolarmente sensibile alle deprivazioni e se soffre in quella fase non raggiunge il potenziale di crescita e quindi resterà basso. C'è un po' di capacità di recupero ma neanche tanta. Il confronto con 60 anni dopo ci consente di vedere chiaramente una storia che per semplicità vi riassumo con questo indicatore che riguarda però molte altre misure del benessere. Quello che osservate in questo confronto è, notate bene perché è importante, non solo che la statura media aumenta ma non esiste una singola provincia del regno in cui questo non avvenga. Tutte le province del regno d'Italia sperimentano un aumento della statura. Questo è un risultato tutt'altro che banale perché vi dice che tutto il paese è stato partecipe al processo di sviluppo. Naturalmente i colori diversi vi mostrano una questione ben nota che è la questione meridionale. Vedete un nord che è diventato molto alto in maniera più coesa e omogeneo e un sud che nonostante sia cresciuto è cresciuto molto meno. Questo cioè è compatibile naturalmente un nord e un sud che crescono entrambi ma con un nord che cresce molto più rapidamente le distanze naturalmente si allargano tra il nord e il sud. Credo di avere ancora solo pochi minuti. Questa è un'importante validazione, è un'importante risposta alle domande che ci siamo posti inizialmente. Il benessere raggiunge tutti gli angoli del paese, il problema è che non li raggiunge in maniera uniforme evidentemente. C'è chi riesce ad andare più veloce, però non c'è nessun escluso. Questo non è un fatto banale. Tantissimi altri paesi per i quali abbiamo esperienza hanno sperimentato diminuzioni della statura della popolazione. È stato il caso anche dell'Italia nel Settecento, ma non è il caso non solo a livello medio, neppure a livello regionale, ma neanche a livello provinciale. Abbiamo episodi di diminuzione delle stature. Questa è un'esperienza che distingue l'Italia da Inghilterra, da Stati Uniti, o altri paesi studiati, ma di minor interesse. E questo è un altro tratto, credo, del nostro sviluppo economico moderno molto importante. Vi faccio vedere rapidamente una statistica che riguarda negli ultimi cinque minuti due cose. Volevo parlare di lavoro minorile e dell'altro lato della medaglia che è l'istruzione, che è un po' il tema su quale vorrei chiudere. Allora, il lavoro minorile, detto con i pochi minuti che mi restano, è un indicatore naturalmente importante. E ci sono due articoli su riviste di primo rango di economia, il Journal Economic Literature, che sostanzialmente ci dicono che gli italiani avevano e hanno una fama, una pessima reputazione in tema di lavoro minorile. Se aprite questo giornale internazionale c'è una tabella che mostra, per un insieme di paesi, i tassi di partecipazione dei bambini. E in questo gruppo, in cui c'è l'Africa, l'Etiopia, il Brasile e la Cina, compare l'Italia. Il che è un po' strano. 1950 ci dicono che il 30% dei bambini, fra 10 e 14 anni, è economicamente attivo. Percentuale che varia nel tempo, ma insomma è difficile vedere l'Italia in compagnia di paesi come l'India, la Cina, il Brasile e l'Etiopia, che in termini di PIL hanno ordini di grandezza inferiore. La cosa naturalmente incuriosisce. C'è anche l'Europa, naturalmente. Qui vi faccio vedere più da vicino il confronto fra Italia e Europa. Quello che vedete è che, secondo questa autorevolissima fonte, il rapporto del lavoro minorile in Italia rispetto alla media europea sarebbe di 5 a 1. 29% in Italia, 6,5 la media europea. Nel 1980 pur sempre di 4 a 1 a sfavore dell'Italia e nel 2000 saremmo addirittura 8 volte 1. Questo, diciamo, unitamente alle lamentele che Parigi mandava a Roma sulle quantità di girovaghi bambini italiani a metà dell'Ottocento, abbiamo una reputazione che si è tramandata fino a consolidarsi e trovare posto nelle riviste. Ora, questa percezione del lavoro minorile così endemico e diffuso è stata sottoposta a una verifica. Abbiamo scritto con Gianni Toniolo un articolo pubblicato sul giornale degli economisti in cui abbiamo ricostruito l'evoluzione delle incidenze del lavoro minorile. Quello che vedete in questo grafico è il risultato. Nell'asse orizzontale, come al solito al tempo, dal 1881 fino al 1961. In 1961 i censimenti della popolazione cessano di interessarsi del lavoro minorile, smettono ogni rilevazione e non sappiamo più nulla. La presunzione forse è che fosse un fenomeno estinto e non valesse più la pena rilevarlo. Quello che a noi interessa qui sottolineare è un andamento molto interessante. Questo vi sta dicendo un altro lato dello sviluppo economico moderno. Un lato che vi dice che ci siamo industrializzati non sulle spalle dei bambini, sottraendo i bambini ai banchi di scuola, ma viceversa con una diminuzione della partecipazione economica dei bambini. E questo è un altro tratto che rende il caso italiano particolarmente interessante. Si formula un'ipotene sostanzialmente di una industrializzazione da lineamenti benevoli, che non sfrutta sostanzialmente i bambini, ed è in linea anche con l'evidenza mostrata prima negli indicatori sanitari. Termino con una, probabilmente quello che è nella mia lettura è il tallone d'Achille. L'istruzione. L'istruzione abbiamo, in questo grafico vi faccio vedere, l'alfabetismo, quindi la percentuale di popolazione che sa leggere e scrivere. Allora, a livello italiano, le due curve si riferiscono alla popolazione, diciamo così, l'alfabetismo chiamiamolo giovanile, cioè coloro che hanno età 15-19 anni, e questa invece è la popolazione adulta. Ora, pur avendo una, guardate che percentuale da cui partiamo, insomma qua i commenti sarebbero tanti, ma insomma un'Italia nasce con livelli di alfabetismo pari al 25%, vuol dire non c'è paese, credo, vicino che abbia valori così bassi. Era una retratezza davvero endemica. Dopodiché, ciò che sorprende da questo grafico è che se teniamo conto del contesto istituzionale in cui avevamo una legge già operante, la legge Casati, già imponeva l'obbligo scolastico già nel 1859, beh, è sorprendente vedere che occorrono praticamente cento anni, quasi cento anni, per osservare che la parte più facile di alfabetismo da debellare, quella giovanile, quella che è appena uscita dalle scuole, che sono già obbligatorie da subito, occorrono cento anni prima di riuscire a raggiungere quota 95%. Per darvi un'idea, i Millennium Development Goals che si fanno oggi per i paesi in via di sviluppo prevedono di eliminare l'analfabetismo nell'arco di 15 anni in tutto il globo. Questo è un mondo diverso ovviamente, ma insomma cent'anni passano. Concludo con, diciamo, mostrandovi una storia credo nota, ma l'unica differenza che qui è documentata, in cui mostriamo dei divari territoriali che rimangono straordinariamente persistenti. Un nord-ovest caratterizzato da un alfabetismo significativamente maggiore, delle distanze che rispetto al sud delle isole vedete che rimangono letteralmente, da un punto di vista statistico, un mondo a parte. assolutamente incapace, in tempi lunghissimi, di raggiungere il resto del paese. Il problema, diciamo, di, se posso solo prendere ancora cinque minuti, Alfredo, ce li ho cinque? È quello di riassumere l'evidenza. Come far riassumere? Una tendenza molto moderna è quella di prendere indicatori compositi. Indicatori compositi in cui, per riuscire ad avere una misura di sintesi, si calcolano degli indici sintetici in cui si mette dentro la performance del reddito, la performance dell'istruzione, la performance della speranza di vita, e si calcola un valore medio, compreso fra 0 e 1, e quanto più alto è questo valore, tanto maggiore viene definito lo sviluppo umano del paese. Questa è una pratica possibile per riuscire a sintetizzare. Se facciamo questo, nel caso dell'Italia, viene fuori un risultato molto interessante. L'indice di sviluppo umano, nel caso dell'Italia, è rappresentato da questi puntini che si muovono nel tempo. Un valore pari a 0 vuol dire basso sviluppo se, come fa UNDP, l'Agenzia delle Nazioni Unite, si considera 0,5 come la soglia di basso sviluppo umano e 0,8 come la soglia di alto sviluppo umano, allora la storia che viene fuori per il nostro paese è che, combinando tutto quello che abbiamo detto, PIL, speranza di vita, istruzione, analfabetismo, l'Italia supera, abbandona la zona rossa, la zona del basso sviluppo umano, intorno agli anni 30. E, dato un po' più sorprendente, riusciamo ad entrare nella zona cosiddetto alto sviluppo umano, questo è ciò che oggi applichiamo ai paesi in via di sviluppo, l'Italia supera questa soglia nella metà degli anni 80, quindi un tempo relativamente recente. Le mie conclusioni ve le offro rapidamente. Successo o fallimento? Questa è una terminologia che ha pervaso la storiografia. Quello che l'evidenza che vi ho mostrato, ma soprattutto quello che non vi ho mostrato per ragioni di tempo, suggerisce di abbandonare questa categoria dicotomica. È un successo evidentemente se ci si confronta col proprio passato, lo è parzialmente se ci si confronta con altri, lo è forse se lo si confronta con le aspettative che le persone hanno, che il sistema ha nei confronti della propria performance. In questo caso la varietà di situazioni scoraggia l'uso di questi termini così tranchant, così bianco e neri. Padri e figli. Padri e figli vuol dire che lo sviluppo economico moderno è riuscito fino ad oggi a garantire che le condizioni di vita dei padri siano state godute anche dai figli. Negli ultimi due decenni ci sono ragioni per iniziare ad allarmarsi. Abbiamo visto una serie di indicatori che suggeriscono questo. La questione meridionale. La questione meridionale l'abbiamo intravista, è presente in maniera persistente in tutte le statistiche, naturalmente non l'abbiamo scoperta. Qui si tratta di quantificarla, questo è lo scopo, di quantificarla e collocarla nel tempo. Se vi faccio vedere questo grafico delle stature che vi ho fatto vedere prima, delle stature degli italiani, per l'Italia, in questo caso ve lo faccio vedere per gli italiani del centro nord e per gli italiani del mezzogiorno, questo è a mio parere l'icona della persistenza del non c'è ragione perché non ci sia una integrazione, una convergenza della statura media. Quello che ci dice questo grafico è che 3,2 cm erano la distanza che separava gli italiani meridionali da quelli settentrionali nel 1861 addirittura aumenta ma resta di 2,8 cm a distanza di 120 anni. Quindi questa è una chiara evidenza di mancanza di integrazione. La nota finale con la quale vi ringrazio e vi concludo è se questa sia una conquista del benessere che possiamo considerare definitiva. Qui la mia considerazione è semplicissima ed è questa. Ci sono le dimensioni del benessere che noi utilizziamo oggi, tendiamo l'istruzione, prendiamo il caso dell'istruzione, a considerare come un output in un qualche modo di cui occuparsi per vedere se l'economia ha avuto successo. Bene, nel passato questi erano probabilmente degli input che si chiama capitale umano in economia. L'input vuol dire un fattore di produzione che è necessario per produrre il benessere futuro, evidentemente. Allora, se teniamo conto che tutti gli indicatori di cui abbiamo parlato oggi di benessere, la statura, la nutrizione, l'istruzione, hanno questa duplice natura di output, perché è ciò che gli italiani hanno conseguito, abbiamo conquistato questo benessere, ma al tempo stesso questo è l'input del benessere futuro, perché questa è la prospettiva che ci dà i 150 anni, allora abbiamo un problema e una visuale molto importante. Nell'istruzione stiamo evidentemente sotto investendo, in questo modo pregiudicando probabilmente, compromettendo quello che è il benessere delle generazioni future. Esempi se ne possono fare altri, ma allo stesso modo la salute, che oggi per noi è una bandiera di vanto in tutti i rapporti internazionali, naturalmente al tempo stesso può essere viceversa un problema domani. Una popolazione che invecchia può avere un problema di sostenibilità economica, evidentemente. E quindi abbiamo titolo, questa è la conclusione che credo di poter terminare, titolo per festeggiare, certamente, perché dalla periferia abbiamo raggiunto il centro, ma non credo che ci siano le, come dire, bisogna intendere bene i segnali degli ultimi due o tre decenni, perché è l'investimento di oggi che determinerà la permanenza del benessere conseguito nel futuro. Vi ringrazio. Grazie Giovanni per questa interessante e illuminante presentazione e adesso apriamo la discussione. se qualcuno di voi gradisce fare domande. Scusi una domanda semplice, abbastanza ricorrente. Per tutti i fattori che lei ha preso in esame e relativi risultati e rilevazioni statistiche, non so, a me mi ha colpito ultimamente per esempio il dato sull'utilizzazione, il lavoro minorile in economia. Ecco, per quanto riguarda anche la produzione del reddito e così via, in che misura e se è stato tenuto in conto il fatto che una percentuale altissima del prodotto interno è frutto, cioè non del prodotto ufficiale, è frutto di economia in nero. Per esempio per quanto riguarda il lavoro minorile, ci sono dei correttivi per poter stimare quale possa essere l'utilizzo diverso, penso che quelli siano dati ufficiali da statistiche ufficiali. ecco, l'economista ovviamente cercherà di inseguire la particolarità della situazione italiana anche per quanto riguarda appunto il reddito, per quanto riguarda la distribuzione, la salute, i livelli di alimentazione. Sì, lei coglie un punto molto ben colto e le posso dire questo, il lavoro minorile è quando si sono accorti dell'errore di smettere di rilevare il fenomeno nei censimenti della popolazione, l'Istat ha formato una commissione alla quale hanno partecipato numerosissimi esperti di economia del lavoro e quant'altro per capire come monitorare il fenomeno, perché era chiara la percezione che il fenomeno non fosse scomparso ed è ancora fra noi visibile. Io ho seguito i lavori di questo imponente macchina messa in piedi dall'Istat, credo anche su scala con l'aiuto europea e credo che sia stato il primo rapporto in cui io si è imbattuto che ha abortito, nel senso che ha concluso che non esistono ad oggi strumenti adeguati in grado di dare una valutazione sufficientemente accurata delle dimensioni del fenomeno. Recentemente anche il CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro, è ritornato sul tema raggiungendo le medesime conclusioni. C'è la percezione che il fenomeno conti, le economie in via di sviluppo ci confermano quello che lei dice assolutamente corretto, cioè i bambini vanno a lavorare perché rappresentano una fonte importante del reddito delle famiglie e in quanto tale il loro contributo è rilevante nella formazione del reddito e non coglierlo naturalmente altre ai confronti territoriali nella misura in cui questo non si è dichiarato. Quindi il problema è al momento in cerca di una soluzione anche nelle sedi istituzionali, non è stata trovata ed è stato scritto le motivazioni per il quale un compito così difficile. E quindi adesso si usano strumenti diversi, cioè dei campionamenti eccetera, ma sono quei fenomeni la cui essenza naturalmente è quella di essere nascosti e che è molto difficile stimare con precisione. Naturalmente è importante anche nei confronti territoriali perché è selettivo, è difficile pensare che sia un fenomeno distribuito in maniera uniforme nel territorio, quindi tutti i confronti territoriali dovrebbero avere un aggiustamento. Nella sua analisi lei non ha citato i fenomeni migratori, noi sappiamo che nel corso dei 150 anni ce ne sono stati di molto importanti, un forte deflusso all'inizio del secolo, poi la migrazione da sud al nord e più recentemente le migrazioni che hanno l'Italia come destinazione. Mi ha colpito particolarmente quando lei insisteva sulla permanenza di una differenza di statura tra nord e sud e il fatto che questa differenza permane nonostante una gran quantità di persone dal sud si sia trasferita al nord e quindi abbia portato un patrimonio genetico che avrebbe potuto in teoria spiegare questa differenza. Qual è secondo lei il peso, se c'è stato un peso di questi fenomeni migratori e in che modo dobbiamo tenerne conto nell'interpretare i dati che lei ci ha fornito? Dunque sono senz'altro d'accordo nell'analisi, io farei una cosa molto scorretta e chiedere a Matteo di darci una sua valutazione perché abbiamo in sala l'esperto di migrazioni che assolutamente sono un capitolo molto importante nella ricostruzione dell'evoluzione del benessere. Non so se Matteo hai voglia di dirci due parole perché senz'altro impariamo di più. Grazie, ma io ti rimando subito la palla perché la domanda che è molto interessante faceva riferimento soprattutto alle migrazioni interne, non alle migrazioni con l'estero. Cioè, secondo me le migrazioni internazionali non devono aver impattato molto da questo punto di vista se non attraverso l'effetto che possono aver avuto sul benessere interno della popolazione perché i diflussi migratori allentano le pressioni sul mercato del lavoro, rendono più possibile l'occupazione, aumentano i salari reali. Dal punto di vista, e quindi forse da questo punto di vista non ha influito sulla distribuzione del reddito, sulla distribuzione del benessere all'interno dell'Italia. Se lei faceva riferimento invece all'impatto dei flussi migratori interni, questi possono aver avuto un effetto, ma i dati registrano la regione di nascita, il coscritto. Quindi forse non sono più i più adeguati a rappresentare questo impatto differenziale sulle altezze che ci può essere stato attraverso i flussi migratori. Ecco, io questo mi sentivo di dire. C'è anche un altro canale molto interessante, Tullio De Mauro, noto linguista, ricorda sempre, escono bruti e rientrano letterati. Cioè ci sarebbe, secondo Tullio De Mauro, un effetto anche molto importante su una delle motivazioni più profonde a diventare alfabeti. Cioè il fatto che una volta che queste masse di migranti escono, si trovano di fronte persone che riescono a leggere e ne colgono la differenza, si trovano nella necessità di dover scrivere a casa e non ne sono capaci. E Tullio De Mauro sostiene che questo fenomeno abbia incentivato moltissimo la diffusione, soprattutto poi quando... Ecco, quindi è un punto ben colto. Ci sono molti canali attraverso cui la migrazione agisce. Grazie. Grazie.